ok allora benvenuti tutti tutte insomma in questo in questo mio spazio dove ho la responsabilità e il grande piacere di presentarvi il l'ultimo nato uno degli ultimi nati della casa editrice ornimi editions in cui appunto come vedete fa parte della della collana in alto il volume b1 lo stavamo aspettando e insomma eccoci qua finalmente ce l'abbiamo fatto in particolare vi voglio far vedere come abbiamo risolto intanto come abbiamo approcciato e poi come abbiamo risolto le esigenze di appunto sottolineare e far lavorare bene i nostri studenti per quanto riguarda tutti gli ambiti di competenza della comprensione scritta quindi partiamo da questo nostro presupposto allora andando avanti nella seconda parte qualcuno che segue già questi webinar sa che io comincio sempre con con una piccola citazione questo in questo caso è breve ma è enorme perché viene da luigi pirandello e il guaio è che voi caro amico non saprete mai come si traduca in me quello che voi mi dite quindi la comprensione di un testo che sia un testo orale o comunque una comprensione scritta ha tutta una serie come vedremo di variabili che non dipendono solo da chi produce ma anche da chi riceve questo questo messaggio che sono che vanno a comporre appunto tutte queste variabili vanno a comporre il 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 tema della comprensione scritta se andiamo avanti c'è una domanda chiaramente una domanda retorica vediamo che cosa si intende per comprensione di un testo scritto per i nostri studenti girando di nuovo pagina vi faccio vedere come sono stati diciamo esemplificati da da balboni questi processi cognitivi della comprensione innanzitutto vedete ci sono due parti con io l'ho evidenziati con due due pallini arancioni l'enciclopedia quindi la conoscenza del mondo questo certo non dipende da noi ma sono i nostri studenti che appunto arrivano in classe nelle situazioni di apprendimento già con una loro enciclopedia con una loro conoscenza del mondo pregressa poi ci sono tutti i processi cognitivi logici ed analogici proprio del linguaggio che ci aiutano appunto a con lo studio con l'apprendimento ci aiutano a completare questa comprensione del testo una delle cose che si aggiunge all'enciclopedia ai processi cognitivi è questa attività di anticipazione e l'attività di anticipazione anche detta expect a sick grammar no di quanto può comparire all'interno di questo testo tutte queste variabili che come vedete sono tante e di diverso spessore partecipano poi alla comprensione vera e propria del testo quindi girando pagina la comprensione del testo vero e proprio che ripeto noi ci focalizzeremo sullo scritto ma è anche orale è un fatto globale quindi parte dalla personalità stessa del nostro studente è un fatto simultaneo quindi avviene in tempo reale più o meno implicito perché comunque sono tutti i processi interni all'interno appunto del nostro studente più o meno anche qui e comporta una serie di informazioni integrate tra loro quindi come vedete siamo all'interno di un processo velocissimo ma estremamente complesso girando pagina girando pagina andiamo ad analizzare quelli che nello schema avevamo indicato come meccanismi logici no quindi quali sono io li ho messi con in maniera molto molto stringata la conoscenza degli elementi lessicali quindi delle parole altrimenti non riusciamo a orientarci all'interno di un testo la conoscenza degli elementi funzionali quindi legami logici grammaticali la sintassi paragrafi tutto quello che è il testo ok e quindi vedete leggendo scorrendo quello quello che ho scritto insomma si tratta della nostra materia vera e propria terzo punto la conoscenza del conoscenza dell'intenzione comunicativa del testo quindi qual è l'intenzione come che tipologia di testo è sto leggendo una ricetta di cucina o un articolo di giornale quindi che cosa posso trovare che cosa c'è che cosa c'è all'interno di questo testo che stiamo che stiamo esplorando nonché la conoscenza del contesto e questa è la variabile personale di ogni studente quindi l'encicopedia quella che poi viene chiamata la lettura verticale quindi quello che lo studente già sai che può diciamo al a cui può attingere per decodificare e comprendere il testo che ha davanti per queste questo più o meno quello che è relativo al meccanismo logico andando avanti nella slide che segue i meccanismi analogici i meccanismi analogici sono tutti quei meccanismi di comprensione attiva delle operazioni logico e linguistiche quindi vengono prima i logici poi gli analogici come vedete dell'emisfero sinistro del cervello e le conoscenze globali tutte le attività globali dell'emisfero destro quindi l'emisfero destro è quello che interpreta le metafore gli ossimori tutti quei giochi di parole chiamiamoli così che possono che intervengono nella nella comprensione di un testo di un testo scritto ok giriamo ancora pagina e facciamo riferimento a quello di cui vi parlavo prima quindi l'anticipazione la expectancy grammar quindi questo tipo di processo logico si riferisce a una serie di soluzioni risorse che il cervello mette in atto che il cervello mette in atto e permettono di anticipare prevedere quello che troverà scritto almeno nel senso complessivo del testo nella parte che non è stata ancora letta quindi abbiamo tutto un pregresso e poi c'è una proiezione del cervello che si chiama appunto l'anticipazione la grammatica dell'aspettativa chiamiamo così giriamo la pagina quindi questo meccanismo viene attivato da una serie di conoscenze competenze prerequisiti ovvero la conoscenza del contesto come vi dicevo la competenza comunicativa dei nostri studenti e l'efficienza dei processi cognitivi implicati dalla comprensione del testo quindi abituiamo i nostri studenti a leggere contestualizziamo facciamogli sempre leggere tutta una serie di testi diversi diversificati con analizzando anche la natura e la struttura di queste tipologie di testi vi farò vedere come all'interno di in alto b1 abbiamo cercato di spaziare sul numero veramente molto alto di tipologie di testi che si poi si possono raccordare in una esperienza reale per quanto riguarda i nostri studenti quindi ci sono articoli di giornale vedrete insomma che blog abbiamo fatto un lavoro di presentazione e di questo tipo di testi veramente approfondito allora girando pagina troviamo un nostro un un ragno che io uso spesso queste 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 figure come vede vedete dunque all'interno della comprensione di un testo scritto ma anche di un testo orale ma focalizziamoci sullo scritto innanzitutto intervengono come vedete diverse 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 variabili e come abbiamo detto forse tra le più tra le variabili più importanti tra le variabili base che ci troviamo di fronte troviamo le competenze lessicali perché chiaramente se mi trovo davanti delle parole che non conosco molte parole che non conosco non sarò in grado di comprendere il testo che mi trovo davanti la motivazione e livello di difficoltà del testo li abbiamo li ho voluti analizzare insieme perché spesso fanno parte di una di un'unica diciamo di un'unica variabile se andiamo a semplificare il genere testuale le varie strategie e la conoscenza ciclopedica quindi ci occuperemo di queste variabili adesso scorrendo man mano la presentazione e infatti immediatamente dopo nella pagina che segue come vedete abbiamo voluto riportare una serie di immagini che sono le nuvole di parole che sono una delle novità che trovate all'interno del volume B1 dove abbiamo voluto dare una spinta molto forte all'acquisizione del lessico proprio perché gli studenti a questo punto si trovano davanti molti generi testuali e hanno bisogno di implementare arricchire moltissimo il loro vocabolario quindi in ogni unità trovate una qualche volta due nuvole di parole relative alla all'unità stessa quindi come campo semantico relativo all'unità che stanno affrontando come vedete abbiamo è evidente anche dalla dall'immagine e la cucina piuttosto che l'immigrazione o comunque i movimenti la guerra in generale una giornata particolare con qualche errore qualcosa che non è venuto il riciclo eccetera quindi vedete come ci sono diverse ma ce ne sono tantissime all'interno di volume diverse soluzioni anche grafiche con le nuvole di parole e le nuvole di parole girando la pagina le nuvole di parole servono appunto per agevolare queste questa competenza lessicale degli studenti e le possiamo utilizzare sono molto versatili abbiamo già fatto degli incontri su questo però essendo molto versatili possiamo decidere di far classificare le varie parole secondo diversi criteri morfosintattici oppure possiamo decidere di completare le nuvole con delle parole che magari non sono presenti e che sono venute in mente ai nostri studenti o addirittura chiedere loro di creare nuovi insiemi di parole infatti ogni nuvola spesso avvicina una 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 parte una zona in cui lo studente può creare una sua nuvola ed ecco la sua conoscenza enciclopedica che viene coinvolta e messa in gioco andando avanti con la presentazione vi faccio vedere che siamo andati siamo andati diciamo ad approfondire ancora di più la competenza lessicale con l'universo delle combinazioni e delle collocazioni lessicali anche qui con soluzioni grafiche come vedete molto molto simpatiche molto veloci in cui possiamo eh stimolare i nostri studenti a livello B1 è assolutamente necessario farlo nel nel ragionare sul fatto che esistono delle combinazioni ehm ad alto tasso ripetitivo delle collocazioni lessicali e quindi la lingua diventa si automatizza per certi versi no? Questo è un lavoro che abbiamo fatto moltissimo all'interno di ogni unità del B1 proprio per aiutare lo studente ad essere competente con il lessico e quindi confrontarsi con tantissimi generi testuali e non sentirsi diciamo in 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 debito con 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 quello che sono tutte le il lessico è quello che deve sta sta imparando insomma e andando avanti una piccola spiegazione appunto eh per quanto riguarda le combinazioni e le collocazioni lessicali sono la ricchezza linguistica tra le più importanti nell'insegnamento di qualsiasi lingua e quindi se 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 conoscete altre lingue chiaramente vi rendete conto quanto sia importante conoscere dei modi di dire delle strutture ci aggiavano moltissimo e e danno anche padronanza eh della lingua stessa nonché sicurezza allo studente di poter appunto gestire bene il processo eh il processo comunicativo in generale allora se andiamo avanti troviamo sicuramente le altre due altre due variabili che che intendevo affrontare qui con voi e motivazione a livello di difficoltà del testo allora io vi ho messo degli esempi ehm che che troverete in nel volume in alto b1 di ehm testi motivanti per con tre aspetti diversi per esempio nella parte italian pillole quindi la parte culturale eh ho inserito eh per esempio un brano e un un piccolo approfondimento culturale su un posto molto bello a Roma che si è una centrale Montemartini è un un piccolo museo ma è una chicca veramente quindi questo stimola anche ehm una certa curiosità intellettuale perché sono posti particolari e diversi da provare andare a visitare chi si troverà a fare un un viaggio a Roma quindi qualche cosa che sia culturalmente stimolante e quindi motivazione poi come vedete vi ho messo vi ho messo sotto sotto quei tasti di pianoforte un piccolo brano tratto nel novecento di Alessandro Baricco eh una riflessione sulla musica e proprio sui tasti del pianoforte quindi una riflessione più romantica che magari va a legare eh alcune abilità alcune caratteristiche del nostro studente quindi qualcosa che lo lo può coinvolgere e di nuovo motivazione confrontandosi anche con testi diversi uno racconta una parte di di un museo un altro invece è un piccolo sono poche righe tratte tratte da una da un testo teatrale no? Come ultimo come ultimo esempio che vi ho messo qui ma è il libro ricchissimo di queste chicche sparse in giro no? Aspetta ok eh una parte di un discorso di uno dei discorsi più famosi di Greta Thunberg quindi attualità anche per gli studenti più giovani e una parte di questo discorso relativo appunto all'unità dove si parla di riciclo di 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 natura di ambiente in generale quindi come vedete ci sono tre input diversi di natura completamente diversi assolutamente in linea con con il livello B1 ma che in qualche caso appunto una parte una parte di 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 un romanzo eccetera così sono sfidanti per lo studente ma anche sfidanti intellettualmente non tanto tecnicamente come livello ma che li aiutano a ragionare o a farsi coinvolgere o a essere diciamo ehm avvolti da magari sentimenti diversi che possono essere rabbia o curiosità o o qualche altro eh sentimento particolare appunto con la musica. Andando avanti con la presentazione vi faccio vedere come come vi anticipavo prima il genere testuale i generi testuali che abbiamo affrontato in maniera molto approfondita sono sono anche questi eh di di natura diversa assolutamente diversa eterogenea perché a questo livello ormai lo studente eh dopo averne stimolato la curiosità magari eh ha bisogno ha voglia ha intenzione di leggersi magari un articolo sportivo quante volte succede no? In occasione di grandi grandi eventi quindi eh diamo le opportunità eh con l'analisi di questa struttura appunto un articolo di giornale un articolo sportivo diamo la possibilità di orientarsi all'interno di generi testuali diversi quindi questo è diciamo la parte ehm diciamo la parte più interessante anche per loro e più pratica. Come genere testuale abbiamo anche messo per esempio quella che vedete tutta a sinistra è una lettera di reclamo quindi ok la parte ludica con lo sport la lettera di reclamo è un qualcosa che può sempre servire per la sparizione di un di un bagaglio in aeroporto è qualcosa che può essere legata alla vita vera quindi qualcosa che poi si traduce in una situazione eh reale spero di no ma insomma eh la possibilità di poter utilizzare questa analisi e questo genere testuale anche nella vita reale. Ehm come vedete abbiamo inserito anche un blog nel linguaggio più contemporaneo più possibile ehm più possibile in linea con quelli che sono appunto eh i nostri studenti target quindi un blog con modi di dire sclamativi puntini situazioni metafore quindi eh sono stati analizzati e non sono solo questi eh dall'interno troverete tantissimo altro altro sono stati analizzati tantissimi generi testuali veramente eh il libro è un qualcosa che si traduce in un mondo molto pratico e molto contemporaneo per i nostri studenti questo perlomeno è nelle nostre intenzioni ma credo proprio che andrà così allora passiamo proprio alla parte eh core della nostra presentazione girando la pagina e ehm piccole strategie per esempio se dobbiamo proporre al nostro studente una comprensione scritta eh prima della lettura si possono cominciare a fare delle ipotesi chiaramente sul testo che tipo di testo è di che cosa potrebbe parlare quindi cercando di anticipare come vi dicevo prima che cosa quale potrebbe essere il contenuto di di questo di questo testo e leggendo anche il titolo del testo i paragrafi le immagini tutto quello che abbiamo messo intorno quindi possiamo aiutarli facendo appunto una 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 presentazione facendoli ragionare su questo tipo eh questo tipo di contenuti strategie uno nella parte nella pagina chi segue strategie due quindi durante durante la lettura che cosa si possono fare provvisioni su quello che avviene dopo cosa succederà e quale saranno come andrà a finire questa storia si possono far sottolineare i concetti più importanti quelli che non sono chiari e di fronte a una parola sconosciuta io credo che nella mia come nelle vostre classi probabilmente la prima cosa che fa lo studente è apprendere il cellulare e fare una tradizione spesso diabolica con google translate eh o qualcosa di simile quindi cercare di stimolarli eh a questo livello si può si può cominciare a strappargli il cellulare dalle mani in senso metaforico quindi cercare di ricavare il senso dal contesto e poi andarlo a cercare magari sul dizionario queste ci sono all'interno del libro moltissimi moltissimi eh suggerimenti su come usare il meno possibile il traduttore diciamo fare delle ipotesi sul testo che tipo di testo è di che cosa potrebbe parlare che cosa è avvenuto prima cosa è probabile che accada dopo eccetera e in generale possiamo andare avanti con la terza strategia pagina dopo nella pagina che segue ok grazie dopo la lettura si possono riprendere le previsioni per capire se quello che c'eravamo magari detti all'inizio o a metà del percorso di lettura è stato confermato è stato smentito in generale stimolare una reazione emotiva questo è sempre interessante stimoliamo la reazione quindi qual è la tua eh opinione che cosa ne pensi che cosa avresti fatto tu quindi guidandoli anche con un coinvolgimento emotivo riassumere andando a cercare le parole chiave tutti gli elementi più importanti che si sono che si sono apparsi all'interno del testo e eventualmente realizzare una mappa mentale quindi realizzare sapete che io ho un po' un debole per le mappe mentali si possono realizzare mappe mentali anche con con le letture che sono sono diciamo proposte proposte nel libro ok andando avanti altri consigli e tecniche che possiamo diciamo applicare nella comprensione del testo scritto magari prevedere un momento di lettura silenziosa invece che una lettura ad alta voce magari in plenum perché nella lettura oralizzata quindi ad alta voce la velocità di lettura si riduce del 60 per cento quindi gli studenti poi sono costretti comunque a rileggere in silenzio con la loro con una concentrazione diversa quindi questa è una cosa che li può aiutare molto far leggere a blocchi far leggere parti di testo specialmente nei testi magari un pochino più lunghi far leggere con uno stile telegramma l'ho chiamato quindi leggere senza quelle parole che non sono necessarie all'idea principale del testo quindi un po' come effettivamente i vecchi telegrammi andando avanti eccoci vi faccio vedere come all'interno del libro all'interno del libro abbiamo abbiamo applicato una serie di tecniche consolidate per quanto riguarda appunto la comprensione del testo scritto vi ho messo il piccolo testo lo trovate sulla destra il testo base dal quale siamo partiti forse non si legge molto ma prendendo il libro lo leggerete perché è anche molto interessante un testo sul gran sasso sul parco nazionale del gran sasso e come vedete questo è un classico esercizio di scelta multipla quindi ognuno di queste diciamo dei punti focali si trova appunto ad essere messo in evidenza dover essere scelto all'interno di tre opzioni questo è un grande classico della comprensione scritta no grazie mi metto un commento adesso poi andando avanti ancora un altro esercizio che non ci tradisce mai applicato per esempio a un testo diverso che la chat no ed è il vero falso quindi il testo lo trovate il testo lo trovate in una pagina poi possiamo potete far verificare agli studenti se le indicazioni che i due protagonisti marco e lili si sono dati via whatsapp sono 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 insomma se lo studente ha compreso le indicazioni che i ragazzi si sono dati con questa chat whatsapp quindi è piuttosto piuttosto insomma un classico no che non non viene mai non ci tradisce come dicevo prima ve lo falso ed anche abbastanza divertente per gli studenti realizzarlo e mettersi appunto in in gioco con queste cose poi girando ancora una pagina sì ok qui non vi ho messo non vi ho messo il testo perché era il blog che vi avevo messo qualche pagina prima comunque 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 è di nuovo un un esercizio un tipo di attività non esercizio un tipo di attività che aiuta a verificare la comprensione del testo scritto quindi scegliere le informazioni presenti nel testo che si è appena si è appena letto quindi e di questi ne trovate moltissimi sparsi anche un paio qualche volta all'interno delle unità quindi c'è stato un grandissimo lavoro di approfondimento per quanto riguarda la comprensione scritta come vi dicevo partendo dalla parte i nostri mattoncini sono le parole e le strutture grammaticali come avete visto per arrivare poi alla analisi di tanti generi testuali e diciamo aiutare i nostri studenti attraverso queste attività che appunto eh verificano e li assicurano sull'esatta comprensione del testo scritto eh andiamo avanti ancora un'altra tecnica quindi il riordino questo questo è interessante perché questa è la vita di Gianna Nannini per esempio quindi di nuovo vi dico abbiamo puntato sempre molto su su qualcosa che eh possa sempre coinvolgere piacere ai nostri studenti quindi una una stella del rock appunto questo è un classico riordino quindi leggere e riordinare come vedete non è inutile che vi dico che cos'è lo conosciamo tutti ehm per appunto eh aiutarli nella comprensione degli scritti ok di nuovo possiamo andare avanti con la pagina che segue dove troveremo eh l'inserimento appunto all'interno di un testo di titoli quindi questo stimola anche la capacità di sintesi e la capacità di trovare scusami mi senti? Allora ancora un paio di minuti poi sì ho finito sì sì finisco qua e ci siamo quindi stimola la capacità di sintesi e la capacità di trovare il concetto principale all'interno all'interno della del testo che stanno leggendo sempre un po' questi testi un po' non vi dico ruffiani ma comunque un po' eh interessanti anche per gli studenti se se intendono venire in Italia o stanno già in Italia per esempio consigli trucchi e segreti per vestire come dei perfetti italiani che non è insomma ehm l'ultimo l'ultimo dovrebbe essere sì eh l'incastro un testo questo per esempio è un testo accademico preso realmente da una tesi di laurea per trovate tutti i riferimenti è un testo accademico nel quale i nostri studenti ehm devono inserire una parte vedete ci sono dei capoversi da inserire nelle nelle eh nei punti nel gap che trovate negli spazi vuoti che trovate quindi anche questo è molto interessante per per aiutare gli studenti a comprendere dal contesto dal vocabolario da quello che si trovano davanti la eh la eh il testo scritto di varia di varia natura e infatti questa è l'ultima attività come ti dicevo Gennaro eh ringrazio tutti per aver per aver seguito il mio intervento spero che vi sia piaciuto spero che vi siate incuriositi un po' su questo in alto B1 che sicuramente ehm è molto interessante ehm e vi vi porterà insomma diverse diversi stimoli eh per le vostre le vostre lezioni. Grazie a tutti.